28. Antico dei giorni Cerchio K attraverso Marco domanda Tu usi spesso la definizione l'antico dei giorni per indicare l'essere assoluto. Più precisamente, che significato ha l'antico dei giorni? Guida spirituale. Ti rispondo così. In principio era il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Così era, così è, così sarà. Amen. Questa è l'unica risposta. L'antico dei giorni è colui che nell'antico dei giorni creò, colui che fu, colui che era, che è, che sente, che vive, che respira, che palpita, che soffre, che ama, colui che sopravvive, colui che esercita, colui che comanda e colui che è sempre con voi. E colui che credete spesso di comandare, di soggiogare i vostri desideri e di patteggiare con l'Eterno. O ipocriti, credete forse che tutto sia subordinato a voi, senza credere che non esiste subordinazione, che non esistono massimi e minimi, ma soltanto colui che è inconsapevolmente massimo, serve coloro che sono minimi. E così perché tutti siamo membra di un unico corpo in Cristo, nel vero Cristo. E bada bene, non ho detto in Gesù, ma in Cristo.